Torna a Lecce la fiera nazionale externa, come sarà quest'anno? Come ogni anno le aziende presenteranno le linee nuove, i nuovi prodotti, i prodotti innovativi. Ovviamente come ormai si sa è un'azienda che propone le nuove linee di design per esterno. Come sappiamo l'esterno ormai rappresenta soprattutto per le tre regioni in cui i dati di percentuale portano da un 13 nazionale a circa un 20%, che sono Puglia, Sicilia e Campania, portano questi dati, ci portano, ci indicano che la Puglia è tra le regioni d'Italia sicuramente più sensibili al discorso dell'arredo per esterno. E non soltanto arredo inteso, come veniva inteso una volta, arredamento così molto frivolo, adesso tutte le aziende propongono proprio delle nuove idee, delle nuove tecnologie. Quindi rappresenta sicuramente un momento importante per l'esposizione, non soltanto nel discorso dell'arredo, ma anche nel discorso delle strutture, nel discorso delle piscine, nel discorso degli accessori e anche dell'arredo urbano. E' senza dubbio anche un'occasione di confronto tra vari espositori, ma da dove provengono gli espositori? Allora, la gran parte delle aziende sono locali, che rappresentano però aziende che provengono da tutta Italia e anche da fuori Italia. Ci sono anche delle aziende che vengono proprio da fuori regione, che diciamo in un certo modo hanno sposato sin dalla prima edizione questa manifestazione. Però, ripeto, la partecipazione si può dire che è una fiera nazionale, per questo noi abbiamo avuto quest'anno il riconoscimento di fiera nazionale. In una situazione economica nazionale che è peggiore di quella mondiale, mantenerci e continuare, perché questa è la quarta edizione di questa, che è stata la prima fiera che siamo riusciti a organizzare, è stato veramente, veramente difficile. Galatina ha chiuso, Bari sta chiudendo. Cioè, il nostro riuscire a stare in piedi è stata una cosa veramente difficile. E' difficile perché lo facciamo solo con le nostre forze. Forse questo non viene tanto apprezzato, visto che siamo anche criticati. Ma noi basiamo solo tutto sulle nostre forze. E mi sembra che anche gli ultimi episodi che sono accaduti all'ultimo evento che è stato fatto a quei bambini, più che essere aiutati, magari se possibile ci bastonano pure. Quindi, è dura, è dura. Però ce la facciamo. Si conferma externa uno degli appuntamenti più importanti, fieristici, che si svolgono qui nel Salento. Come Camera di Commercio ci siamo. In questo momento, soprattutto così difficile, cerchiamo di aiutare le nostre aziende. Speriamo che externa quest'anno raccolga un successo ancora superiore rispetto agli anni passati. E' un momento di confronto. Externa non è solamente esposizione, ma externa è anche convegni. Ci sono un paio di convegni molto interessanti. Uno sull'illuminazione, sull'innovazione tecnologica e l'illuminazione. E' un altro che va a tracciare quelli che sono dei temi molto attuali. Cioè, si parla di Blue Economy, cioè la famosa economia del mare. Perciò parleremo di mare, di turismo, di sfruttamento della costa, di imprenditoria balneare. Insomma, externa si conferma come una fiera trasversale a 360 gradi, dove non c'è solamente esposizione, ma ci sono anche momenti di riflessione, di pensiero. Perciò parleremo di mare.